Buongiorno a tutti. Vorremmo partire con un piccolo omaggio al popolo afroamericano. Buongiorno, ringraziamo questo Davide Rossi e i suoi collaboratori per averci invitato a questa bellissima manifestazione, fantastica, in una piazza al Trentanto fantastica. Dopo di noi dei musicisti incredibili che avremmo modo di sentire insieme. Grazie. 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 Roberto Luca. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 Yeah. Grazie a tutti. Mmm... 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 Mmm...